Allora cominciamo, pronostica c'è questo, secondo te dove sta? Ehi Claudio Pozzelli Paolo Come? Secondo te dove sta il tesoro? Sotto Qua sotto? Qua? Sotto a Salbero? Vabbè, Pozzè, secondo te dove sta il tesoro? In mezzo alle radici pura Vabbè, basta, dove hai fatto? Oh! A letto mio, entro al cuscino, bello, entro alle leggiola Bravissimo, Cesare, secondo te il tesoro dove sta? Andrò a quei secchi dell'immondizio Ma dove sta? Laggiù? Sì Vabbè Oh, Luca, 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 tu se siete cresci il gruppo, non sei bravo A dove sta il tesoro? No, mi devi appoggiare, ce l'ho mostrata da sola Non lo sappiamo, se non l'ha Mannaggia, vabbè Simone, secondo te? A San Daniele, l'ho detto da subito, a San Daniele Non lo posso dire Lo diciamo in teme Vai, uno, due, tre Nella topa della Maddalena Tu sei andato a fare la rapina, secondo te dove sta? Ce l'ho io in tasca A Daniele, a Daniele, chiedo a Daniele A San Roma Oh, no? Adesso, secondo te, dove sta? Aspettate, guarda una mamma, una cosa, aspetta, è lì Che devi trovare? A dove mi portiamo? Sto frattone qua Sì Ho fatto caccia alla fila Ho fatto caccia alla fila Caccia alla fila Oh, levati Levati, fatti, secondo te, dove sta il tesoro? Però, fuori, levati avanti Andrò C'è la Francesca, Francesca, secondo te, dove sta il tesoro? Vieni a mamma, dai Raffanculo, va Ma stanno sta là Lorena, dove sta il tesoro? Vieni a me, c'è una domanda Oh, adesso, secondo te il tesoro, dove sta? Oh, stizio Da, dove? Ahì, cioè, tu sei la mente del gruppo, dove sta il tesoro? Qua Andrò Non ce l'ho Qua? Veramente? Lo posso dire io, al posto di frattone Alla jocca rollova Ah, ora mi sto a ricordare Eh C'è una domanda Che hai fatto? C'è una domanda C'è una domanda Alla jocca rollova Non è sicuro Andrò la volta Ci stavamo già l'anno scorso Eh, ma l'anno scorso c'è stato un piccolo disguido O l'organizzazione Non ce l'hanno messo Dato Non è sicuro sta là Sta là? Ah, guardatevi Il 9 settembre Presso A mezzaluna Cita Falconara Si svolgerà la seconda edizione del Gombali Gombalaggio, scusate Intervenite numerosi Dato, tesoro, andrò sta Su Marte Su Marte? Poi Vediamoci a fare il giro Andrò Andrò Diamo, eh Special guest Lucio Dalle Andrò Sempre al Gombalaggio Mi raccomando Daniele, ah, fai serio Secondo te, dove sta? Secondo me, onestamente Eh Sta a Spiersi Da a Spiersi andrò Ma quando c'è una camera? Io tutto Comunque io, per la vostra prima cosa Secondo me, se non lo sapete dove sta Ma lo sapete proprio dove sta Tenta la piscina Ma ve la faccio pure vedere Faccio la piscina Secondo me sta all'attento Ma è, va, va, va Va, va, va Ma qui da tutti, qui da tutti All'ermani No, vabbè Oh, forse Forse mi devi addossare il tesoro Vabbè, me lo fate Se lo mando Oh, è buona Si, hai sognato Giovanni e Peppe prima Oh, è mai Mi devi addossare il tesoro Devi stare nel culo No E vedi il bel c'è No, piccolo, troppo piccolo London Oh, cipollò Parco 2, il tesoro sta Dove dici tu, dove sta? Alla stazione di Santo Padre Maria Chiara Alla stazione di Santo Padre Proviamo a trovare Ma il gruppo Prova, però Non va Frattone Ultima discussione Mi fido di quello che dici tu Il tesoro dove sta? San Girolamo San Girolamo Sì Inquadriamo San Girolamo Il frattone ha detto che sta qua sopra A San Girolamo Andiamo tutti a San Girolamo Il frattone dice che sta praticamente lì dove si vede E poi fermati Guarda Vai faccio vedere dove sta Aspetta, sta qua eh Questo San Girolamo secondo frattone sta qua sopra Adesso un saluto Aspetta, facciamo fare il saluto finale a Dado Dado Falco di 5 minuti di video Adesso devi fare il saluto finale Fai il saluto finale Mizz Poi Mosh Poi Mesh Mizzwex Poi E base Mizzwex 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 Mizzwex